Bene carissimi amici e amiche, siamo tornati a una nuova puntata del ciclo di Catechesi Il Peccato Originale, l'origine di tutti i mali, dove tratteremo questa sera, se Dio vuole, l'ultimo dei grandi autori patristici, cioè un altro gigante che è San Massimo Il Confessore, un padre abbastanza avanzato, è nato nel 580 a Costantinopoli, è morto nel 662, quindi ha circa 80 anni, è un autore molto molto prolifico, faremo un breve tratto biografico e vedremo che è un autore molto molto lucido, specialmente per quanto riguarda la nostra tematica, confermerà molte delle cose che abbiamo già visto, dandogli anche il proprio apporto originale. Allora, anzitutto fu questo straordinario uomo, nato da famiglia nobile, con più degli studi classici, divenne segretario dell'imperatore Eraclio, imperatore ovviamente d'Oriente, siamo ben oltre il 476 d.C., siamo a Costantinopoli. Solo che lasciò la vita di corte a un certo punto per entrare nel monastero di Filippico a Crisopoli. Poi ebbe vari trasferimenti, fino a quando non dovette trasferire, lasciare il suo monastero a causa di un'invasione militare contro Costantinopoli nel 626. I persiani attaccarono Costantinopoli e lui lasciò il suo monastero. Quindi cominciò a girovagare, soggiornando a Creta, a Cipro, a Cartagine e fu un grande combattente di alcune pericolose eresie che poi furono oggetto del concilio di Costantinopoli III nel 681. L'eresie erano il monoenergismo e il monotelismo. Il monotelismo in particolare affermava che la volontà di nostro Signore Gesù Cristo in realtà era solo una, perché essendo la volontà divina unita a quella umana, dicevano questi eretici, sarebbe come se tu mettessi una goccia d'acqua dentro un oceano, quindi la volontà divina è talmente grande e talmente potente che assorbe completamente la volontà umana, per cui di fatto il Figlio di Dio, sto evidentemente semplificando però per far capire, possiede solo la volontà divina. Assolutamente no, perché se così fosse, è chiaro che tutti quanti i meriti con cui il nostro Signore ci ha redenti sarebbero del tutto inesistenti, perché se dentro una persona ci fosse soltanto la volontà divina, non ci sarebbe nessun merito in quello che fa perché non potrebbe fare altro che il bene e tra l'altro farlo molto molto facilmente, essendo come dire dotato di sola volontà divina. È una cosa diversa raggiungere la perfetta unione con la volontà divina, uniformarsi sempre ad essa e fondersi incessantemente con essa, come fece per primo nostro Signore Gesù Cristo. La prima condanna del monotelismo e del monoenergismo, nonostante l'imperatore avesse emanato un decreto in cui proibiva di discutere su queste questioni, il Papa Martino I convocò dapprima un sinodo a cui San Massimo partecipò con grande impegno sottoscrivendone le decisioni. Il problema è che l'imperatore, siamo ai tempi, chi studierà storia probabilmente lo ricorderà, il fenomeno, siamo ai tempi del Cesaro Papismo, cioè gli imperatori che si mettevano a fare i papi e quindi si andavano ad occupare di questioni religiose ingerendosi e scavalcando anche l'autorità del Papa. Pensate che non vi deve scandalizzare che diversi concili dei primi secoli furono convocati dall'imperatore, non dal Papa. succede di tutto nella storia, ma nonostante questo Dio portava avanti i suoi disegni e la Chiesa va avanti lo stesso, questo ci dà sempre grande consolazione. Solo che a un certo punto l'imperatore nel 653 fa arrestare sia il Papa che San Massimo e li porta a Costantinopoli e nel 655 San Massimo viene condannato addirittura all'esilio. Viene riportato davanti al Patriarca di Costantinopoli che ovviamente era soggetto all'imperatore e rifiuta di compiere l'atto di sottomissione e pensate che poverino nel 662 un sinodo lo condannò alla flagellazione al taglio della lingua e della mano destra con le quali aveva disobbedito all'imperatore. grande eroe e poco dopo li ha portato in Giorgia morì il 13 agosto del 662. Quindi abbiamo veramente un piccolo grande eroe della fede, un grandissimo teologo, una personalità assolutamente di spicco, lucida, profonda, di cui adesso ci mettiamo in ascolto. La grande maggioranza delle opere attinte dal Barontini sono indisponibili in italiano, quindi sono state da lui tradotte e si trovano nel Migne, ossia nella patologia greca, sparse nei vari volumi. Allora il primo brano che si prende in considerazione molto significativo è tratto dalle Questiones et Dubbia, un'opera che come diverse altre di questo autore appartiene al genere letterario delle domande e risposte che si diffuse nella tarda antichità per fini scientifici e didattici. Allora la domanda a cui San Massimo risponde è la seguente, che cosa vuol dire? Nell'iniquità sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre. Ormai arrivati a questo punto di questo ciclo di Catechesi, quando sentiamo queste parole, quindi si viene subito in mente Salmo 50,7 perché l'abbiamo già incontrate tantissime volte. Risposta perché il fine principale di Dio era che noi non fossimo generati dalla corruzione attraverso il matrimonio. mettersi bene in testa questa frase subito, diretta, immediata. Il fine principale di Dio era che noi non fossimo generati dalla corruzione attraverso il matrimonio. La trasgressione del comando introdusse il matrimonio attraverso la violazione di Adamo. Ricordiamo sempre, amici, questo doppio canale. Il matrimonio in quanto tale, l'abbiamo già visto, è stato istituito da Dio dall'Eden, ma il matrimonio in quanto tale non significa generazione carnale. Il matrimonio istituito nell'Eden non è uguale al matrimonio così come vissuto dopo il peccato originale. questo è chiarissimo per tutti quanti i padri della chiesa. Proseguo la lettura. questo significa aver trasgredito la legge di Dio che Dio gli aveva dato. Perciò tutti quelli nati da Adamo vengono concepiti nelle iniquità e cadono sotto la condanna del progenitore. E la frase è nei peccati mi ha concepito mia madre significa che Eva, che è la prima madre di tutti noi, concepì il peccato come desiderosa del piacere. Attenzione! Per questo anche noi, caduti sotto la condanna della madre, diciamo che siamo concepiti nei peccati. Breve commento a questo brano. La prima frase fondamentale, l'ho letta e ripetuta, la ribadiamo. Il fine principale di Dio era che noi non fossimo generati dalla corruzione attraverso il matrimonio. Ora è evidentissimo che attraverso questa frase, San Massimo afferma senza ombra di dubbio che l'attuale modalità di generazione umana attraverso l'unione carnale è intrinsecamente connessa con la corruzione e non faceva parte del piano creativo di Dio, essendo stata introdotta attraverso la violazione di Adamo, come specifica subito dopo. Questo è chiarissimo per San Massimo. Ed è per questo motivo che tutti quanti i discendenti di Adamo vengono generati dalla corruzione e quindi ereditano la condanna del progenitore, il peccato originale inerente a ciascuno come proprio e tutte quante le conseguenze di esso, prima fra tutte la morte. San Massimo dà inoltre una spiegazione del versetto tutta sua affermando che Eva non solo concepì nel peccato, attenzione, ma concepì il peccato come desideroso del piacere. L'autore nota che questa frase di Massimo richiama alla mente una delle frasi lapidare di Sant'Agostino. Beatzior est Maria percipiendo fidem Christi quam concipiendo carnem Christi. Traduco io. Più beata è Maria per aver creduto in Cristo, quindi per la fede, che non per averlo concepito nella carne. Molti padri della Chiesa, a partire da Renato di Leone, hanno delineato un parallelismo fra Eva e Maria, parallelismo che è fondamentalissimo, tra la prima Eva e la seconda Eva, tra l'antica Eva e la nuova Eva. Quindi, come Maria, dicono i padri, ha concepito la parola di Dio prima nel cuore e poi nel corpo, così vale per Eva, che ha concepito prima nel cuore e poi nel corpo. Ma attenzione, Eva ha concepito il peccato desiderosa del piacere, Maria ha concepito la parola di Dio. Quindi, attenzione che qui si apre uno spiraglio inerente al fatto che il peccato stesso originale, in quanto commesso da Eva, fu cosa? Il desiderio del piacere e quindi la consumazione del piacere. E attenzione, se fosse piacere sessuale, si identificherebbe con l'unione carnale. Quindi, non si può affatto escludere, anzi si deve ritenere più che probabile, che San Massimo non soltanto ritenesse l'unione carnale come conseguenza del peccato originale, ma come contenuto del peccato originale, di cui evidentemente poi è stato anche conseguenza. Una volta avviato il processo, quel processo è irreversibile. Importantissimo questo autore, come già possiamo capire. Altri tre brani adesso, tratti da un'altra opera, anche se di genere letterario simile alla prima, quindi che va avanti come domanda e risposta. Vediamo il primo brano. E molto più la terra è il cuore di Adamo, avendo ricevuto la maledizione a caso della trasgressione e lo spogliamento dei beni celesti. È questa terra che egli mangia, per mezzo dell'operosa ricerca della scienza attraverso molte purificazioni, attraverso molte tribolazioni, purificata dalla maledizione per mezzo della coscienza della vergogna del lavoro. E al contrario in essa terra, cioè il cuore di Adamo, spuntarono castigo di spine i pensieri della generazione dei corpi. La frase fondamentale, allora che cosa sta dicendo qui San Massimo? Sta paragonando la terra, quindi la terra proprio, ricordiamo sempre che in greco, scusate in ebraico, stasera sto perdendo qualche colpo, In ebraico terra si dice Adamah, Adamo, che significa letteralmente tratto dalla terra, si dice Adam, cioè sono gli stessi radicali di Adamah, soltanto che ci manca la he finale. Quindi la terra da cui fu plasmato Adamo, lo riprenderà questo discorso, era terra vergine prima del peccato. Dopo il peccato, Dio ha maledetto la terra, ma non solo la terra è maledetta, come dire, è maledetto, tra virgolette, Dio non ha mai maledetto l'uomo, ma capite, è un'estensione metaforica, anche se reale, e quindi comincia a produrre, come la terra produce, Cespini e Cardi produrrà per te, così cosa produce il cuore dell'uomo? I pensieri della generazione dei corpi, quella che la Chiesa avrebbe chiamato la concupiscenza, il desiderio sessuale disordinato. Spero di essere stato chiaro. Secondo brano, domanda, qui l'opera, ho omesso di dirla, è Le questiones ad talassium. Domanda, che cosa significa, avendo spogliato i principati e le potestà, e ciò che segue? In che modo si era rivestito completamente di essi, essendo stato generato senza peccato? Risposta, colui che si era fatto in ogni modo simile a noi, eccetto solamente il peccato, Il verbo divino che, restando immutabile, si è immerso nella nostra natura, divenuto uomo perfetto, portò in sé il primo Adamo, manifestandolo nei modi della creazione e della generazione. L'uomo, ricevuto da Dio l'essere e venuto all'esistenza secondo la generazione dell'essere, era libero da corruzione e da peccato. Infatti, non fu uno creati con di la corruzione e il peccato. Quando, trasgredendo il comando peccò, ricevette come condanna la generazione istituita attraverso le passioni e i peccati. Quindi vedete che anche qui c'è un parallelismo chiarissimo tra Adamo e Cristo. Quindi, l'uomo Cristo è stato creato da Dio e da lui generato per mezzo di una vergine. Così l'uomo Adamo era stato creato da Dio e plasmato per mezzo della terra vergine, l'adama appena uscita dalle mani del creatore. Che cosa è successo? Che a un certo punto c'è stato il peccato che iniziò appunto con la disobbedienza di Adamo e a questo punto fu introdotto nella natura dei progenitori il modo di generare mediante l'unione fisica istituita attraverso le passioni e i peccati. Quindi, in base a questo brano, se non fosse stato commesso il peccato d'origine, la generazione attuale, quindi carnale, semplicemente, siccate simpliciter, non sarebbe esistita. Terzo brano di quest'opera. Dio dunque in verità si fece uomo e diede un altro inizio alla natura con una seconda generazione a causa della pena per una vita futura che metterà fine al piacere. Poiché infatti il primo padre Adamo, allorché trasgredendo il comando divino, avendo istituito un altro principio della generazione proveniente dal piacere, introdusse a causa della pena la morte che mette fine all'ordine naturale contro la prima natura e comprese, seguendo il consiglio del serpente, che il piacere non è una conseguenza della pena che precede, ma piuttosto conduce verso la pena tutti quelli generati da lui nella carne, in quel modo, mediante l'ingiusto inizio proveniente dal piacere ed ebbe giustamente come risultato che quelli che sono generati da lui gli vennero tolti con la morte a causa della pena. Cioè, rendiamoci conto di quello che sta dicendo qui San Massimo il Confessore. Io vorrei ricordare che tutto quanto il senso del discorso che noi stiamo facendo e questa ipotesi teologica l'ho già accennato nelle prime puntate. Nell'attuale contesto pansessualizzato cade come una doccia fredda. Adesso noi siamo in un contesto, l'ho detto tante volte, dove anche tantissimi credenti e anche praticanti non hanno o alcuna coscienza dei peccati di Sexto, oppure, pur avendo sentito dire che i peccati contro il Sesto Comandamento sono peccati ne negano l'intrizeca peccaminosità. Semplicemente rifugiandosi il non c'è niente di male oppure questa è una materia privata dove io posso tranquillamente decidere. Se pensiamo che San Massimo sta affermando che dal piacere deriva la morte Toma. Vedete le trappole sataniche, no? La trappola satanica è sempre questa. Questa è la logica di ogni suo tranello e di ogni peccato. un godimento, una gratificazione, una soddisfazione generalmente bassa, piccola e immediata è il contentino per farti scatenare il finimondo di mali che poi ti cascano e ti piovono addosso. Quindi la generazione di Cristo è completamente in contrapposizione a quella proveniente dal piacere che Adamo istituì attenzione trasgredendo il comando divino. Trasgredendo il comando divino significa proprio andando alla ricerca del piacere come atto costitutivo di quella trasgressione abbiamo visto che in base ai brani precedenti c'è più di qualche motivo per sostenerlo. la morte la morte guardate che è conseguenza di questa modalità di generazione e guardate che la morte è quanto di più innaturale possa esistere perché la morte è separazione dell'anima dal corpo cioè dei due principi costitutivi dell'unità sostanziale dell'essere umano. quando San Tommaso d'Aguino definiva l'anima qui le persone un pochino ignoranti cominciano a dire ah ma queste sono cose teoriche non si capisce niente sono astrazioni lui definiva l'anima la forma del corpo la forma sostanziale che cosa significa? Significa che di per sé la mia anima non può stare senza il mio corpo e viceversa la prova di questo è che la Madonna è stata assunta in cielo in corpo e d'anima e attenzione che se questo principio è vero dove non c'è il peccato né originale né attuale non ci può essere quella separazione piena e totale dell'anima dal corpo che si ha con la morte è impossibile ecco perché con buona pace della scuola francescana che per una forma di di comprensibile amore verso la Madonna dice no la Madonna è la grande imitatrice di Cristo quindi dovendo imitare Cristo fino alla fine è morta è risolta come lui dopo tre giorni e poi è stata assunta in cielo ma la risposta cioè la verità è che questo non può essere vero non è possibile non c'era nessun motivo per cui la Madonna è successo questo perché tu dici ma Gesù Cristo è morto ma Gesù Cristo è morto di morte violenta cioè Gesù Cristo ha permesso che si scagliassero contro di lui e che gli infliggessero la morte attraverso la violenza ma sicuramente la Madonna non è morta di morte violenta 100% e non essendo morta di morte violenta attenzione questo dobbiamo capirlo bene era impossibile che morisse questa cosa la Madonna l'ha detta esplicitamente anche molto molto chiaramente durante le apparizioni alle tre fontane a Bruno Cornacchiola disse queste testuali parole chi si rega in visita alle tre fontane le trovera scritte il mio corpo non poteva marcire e non marci gli angeli lo vennero a prendere non poteva non è che il Signore mi ha fatto questo regalo siccome hai fatto la brava e non hai peccato quindi per premio ti concedo di non conoscere la morte no no parla di impossibilità era impossibile che questo accadesse non poteva accadere non è semplicemente come dire un premio elargito da Dio a Maria per la sua santità e per la sua fedeltà no c'è un'impossibilità questo dovrebbe aiutare tutti quanti a riscoprire oggi la festa di Sant'Agnese cioè uno dei segni della proprio non soltanto corruzione della società ma della perdita di un'autentica vita cristiana anche da parte dei battezzati anche da parte dei cattolici è il dilagare dell'impurità figlioli miei cari di questo la Madonna ci ha avvisato a Fatima parlando esplicitamente dei peccati della carne dicendo che un sacco di gente va all'inferno è che il peccato che dà maggiori clienti all'inferno è questo quindi pensiamo quanto bisogna stare alla larga da questo peccato se è stato questo il peccato che ha introdotto la morte nel mondo ma che cosa significa? Significa che ogni volta che tu lo compi il male che si genera è grande tu ti lasci abbagliare da un piacere di qualche istante ma la massa di male che si produce e quindi poi anche la forza che si dà al demonio perché il demonio trae forza dai nostri peccati e solo da quelli il demonio ha tanto potere sull'uomo quanto gliene concede l'uomo stesso attraverso i peccati che commesse che commette cosa disse Gesù prima della sua passione viene il principio di questo mondo egli non ha nessun potere su di me cioè Gesù si è lasciato fare del male dal diavolo perché era lui che stava dietro tutta la tragedia della passione attraverso i suoi collaboratori ma perché lo ha voluto perché si è consegnato per riscattare noi ma altrimenti non c'era nessuna possibilità il potere che il diavolo ha verso una persona che è amica di Dio è zero quindi le uniche cose che il diavolo può fare sono quelle che per permissione divina Dio permette per permissione divina finalizzata dato che adesso qui siamo sul terreno del peccato alla salvezza del prossimo per esempio per esempio e basta basta pensare al fatto che commettendo un peccato impuro si aprono queste voragini il demonio prende potere su un'anima il potere che ha il diavolo sulla nostra anima è tanto quanto glielo danno i nostri peccati voi pensate se come al termine di questa lunga disanima disanima vedremo il peccato originale è stato proprio quello e capiremo anche come dire cioè perché la dottrina cattolica come ho già spiegato a suo tempo quando prima di introdurre questi discorsi dico capiamo subito una cosa ripassiamo la sana dottrina cattolica che non è cambiata su questo non è cambiata nemmeno di una virgola basta aprire il catechismo della chiesa cattolica non si può tacciare nessuno di essere troppo rigido oscurantista perché questo è ciò che continua ad insegnare immutabilmente indefettibilmente la chiesa quindi tu pensa se il peccato originale è stato proprio questo e se attraverso questo si trasmette lo stesso peccato originale qual è il danno che sarà prodotto ogni volta che qualcuno commette un peccato impuro del sexto comandamento ed ecco perché su questo la chiesa è stata sempre rigorosa e ha sempre insegnato che in re venerea non datur parvitas materie e uno dei brutti segni dei tempi che stiamo vivendo è la situazione di totale come dire assoluto libertinaggio in questo campo cioè in questo campo l'uomo contemporaneo non accetta nessun tipo di norma etica ma questo a tutti i livelli cioè perché dilagano le libere convivenze perché se tu qualcuno vuoi dire che i rapporti prematrimoniali sono peccato ti ridono in faccia oggi ti ridono in faccia perché si sfasciano così facilmente le famiglie uno se ne fa un'altra e dopo se si decide anche di riaccostarsi alla chiesa è normalissimo dice la chiesa deve accettare questa situazione e non mi deve rompere le scatole eppure quella situazione è adulterio pensiamo ancora alle rivendicazioni del mondo omosessuale attenzione che addirittura ahimè purtroppo trovano eco oggi è così purtroppo cioè ammiro con un immenso dolore in qualche esponente della chiesa ma anche in qualche più che esponente della chiesa perché ci sono aree del mondo dove si sta mettendo nero su bianco il desiderio di benedire le unioni omosessuali cioè questo è un processo completamente è tutto quanto collegato cioè una come dire depenalizzazione se vogliamo usare un termine profano di tutto ciò che appartiene al desexto cioè capito cioè cioè questa operazione è proprio il suicidio assoluto perché fare questo attenzione noi dobbiamo sempre ricordare una cosa che il peccato commesso apre le porte al diavolo noi siamo sicuramente sotto era e sotto e sotto scacco satanico adesso intubbiamente ma chi è che gli ha aperto le porte sì Dio gli ha permesso di agire ma chi è che gli ha aperto le porte una montagna di peccati commessi dall'uomo e poi una volta è quello di mettere il fiato sul collo ha voglia liberarti sì certamente è sempre possibile ritornare al Signore invocare la misericordia chiedere perdono fare penitenza ma cioè ci sono dei dei cammini di risalita da affrontare notevoli pensatagli a una larga parte della psicologia che afferma che il peccato impuro solitario specialmente adolescenziale è una cosa assolutamente normale anzi è strano se non ci dovesse essere e che in ogni caso non bisogna inibirlo perché se poi tu lo inibisci questo cresce con qualche disfunzione o con qualche repressione o cose di questo genere ma pensate anche adesso che le aggressioni fatte ai bambini i programmi l'insegnamento dell'educazione sessuale ai bambini piccolissimi i tentativi di fare entrare nello stesso insegnamento nella scuola fin dalla più tenera età del gender capiamo? quindi tanto più questi discorsi sembrano veramente fuori dal mondo quanto più opportuno farli perché fuori dal mondo ci siamo usciti noi oggi è la festa dicevo prima di Sant'Agnese Sant'Agnese è una delle sette vergini martiri l'ho detto durante l'omelia della messa di oggi Sant'Agnese è morta per custodire la sua intemerata verginità si era invaghita di lei il figlio del prefetto di Roma ci ha provato come diciamo nel linguaggio comune evidentemente non ci ha riuscito perché questa bambina 12-13 anni aveva quando ha subito il martirio voleva rimanere vergine e lo sfregio che le hanno fatto come sempre come spesso accadeva non sempre era di esporla nuda in una località dove c'era un circo molto vicino all'attuale piazza Navona un uomo gli è andata vicino per poterla avere per poterla abusare è morto sul colpo risorto per intercessione di Sant'Agnese stessa ma è morto sul colpo e non dimentichiamo mai ecco anche se questo è un argomento macabro che i riti che fanno quelli della concorrenza cioè i cultori dell'essere più stupido dell'universo che un tempo era Lucifero e che adesso è Satana durante i loro riti i loro riti sono culminanti in due cose orribili entrambe orge rituali all'interno delle quali avvengono orribili profanazioni alla Santissima Eucaristie ci sarà un motivo no? o no? ora torniamo al nostro autore e al testo ma San Massimo afferma che Adamo istituì un altro principio della generazione anche in questo secondo testo un altro principio della generazione trasgredendo il comando divino istituì un altro principio della generazione proveniente dal piacere quindi vuol dire che la generazione degli esseri umani doveva avvenire in un modo differente da quella con cui ora la conosciamo e l'altra conoscenza è andata per sempre perduta e quindi di nuovo ritorna questa ricerca del piacere sensibile che ha dato all'ingiusto che ha dato origine all'ingiusto inizio della generazione nella carne attraverso l'unione fisica quindi anche qui c'è una più che possibile allusione al fatto che lo stesso peccato originale sia consistito esattamente in questi atti andiamo avanti ancora sempre con San Massimo sono tantissimi i testi non so se ci riusciremo a finirli con una puntata perché sono veramente tanti sicuramente no perché vedo che sono già trascorsi 40 minuti e non possiamo dilungarci troppo no non probabilmente sicuramente andiamo a vedere gli ambigua un'altra serie di scritti penso che dopo questi non si riusciremo neanche a finire probabilmente dovremmo fermarci vabbè vediamo di andare avanti ora gli ambigui o problemi gli ambigua scusate o problemi è un'opera che affronta questioni metafisiche e teologiche sulla base di testi di San Gregorio di Nazianzo e di Dionigi l'Aeropagita due grandissimi teologi San Gregorio di Nazianzo lo conosciamo lo abbiamo affrontato anche nella nostra disamina Dionigi l'Aeropagita di cui si parla negli Atti degli Apostoli fu il primo vescovo di Atene essa deriva dall'unione di due scritti salto un pochettino le note filologiche contenutistiche di quest'opera e vado direttamente alla lettura del primo testo contemplazione della frase mio padre e mia madre mi abbandonarono così ancora dicendo mio padre e mia madre mi abbandonarono ma il Signore mi ha raccolto egli vuol far sapere attraverso un velame che è necessario che coloro che desiderano le cose incorruttibili abbandonino e fuggano la legge naturale della carne relativa alla generazione e alla corruzione conforme alla quale tutti noi a causa della trasgressione iniziale siamo generati quindi un brano di molto facile analisi quindi quando si parla di legge naturale quando qui San Massimo parla di legge naturale non parla della natura umana come era stata creata da Dio ma della natura umana decaduta a causa del peccato originale perché è in questa natura che si è instaurata quella legge relativa alla generazione e alla corruzione e che questa legge deve essere fuggita da coloro che desiderano le cose incorruttibili è chiaro che anche per noi soprattutto con l'avvento di Cristo dopo l'avvento di Cristo e di Maria Santissima tantissimi cristiani hanno cominciato a vivere nella verginità nella verginità nel senso che ci sono tanti uomini e tante donne che non hanno conosciuto uomo o non hanno conosciuto donna non perché non ne hanno avuto la possibilità o l'occasione ma perché hanno voluto scegliere la vita angelica che di per sé è quella che meglio dispone alla conoscenza e all'anticipazione su questa terra della condizione che tutti vivremo nel cielo questo non significa evidentemente che chi vive santamente la sessualità non possa giungere anche ad un'altissima conoscenza di Dio anche ad un elevato grado di preghiera o di contemplazione anche pensiamo per esempio mi piace sempre fare riferimento a quella santa donna che fu Natuzza Evolo Natuzza Evolo era sposata e aveva se non ricordo male cinque figli ma era una grandissima donna di Dio insegnita di ogni tipo di favore quindi si tenga sempre presente che affermare una verità di principio su questi argomenti non vuol dire fare un'affermazione assoluta quindi soltanto i vergini riescono a raggiungere un tipo di vita elevata e che si avvicina all'incorrottibilità mentre agli sposati questo non è possibile no no ordinariamente questo stato dispone predispone apre ma non è detto perché poi se il vergine cioè non vive una vita rispondente al suo stato immaginiamo insomma facciamo un esempio proprio sciocco se una persona che ci ha celibato o che è vergine passa il tempo a a a direttarsi di cose mondane che ne sono stesse davanti alla sera davanti alla televisione o immersi tutti quanti i piaceri e gli stili di vita propri dei dei mondani la virginità fisica gli gioverebbe ben poco quindi questo non dimentichiamo mai queste cose ogni tanto puntualizzo perché non voglio vorrei se possibile sempre evitare letture distorte o fraintendimenti no anche se per quanto vedo che per quanto adesso faccio attenzione a specificare a fermarmi a dire guarda che dire questo non significa dire quest'altro però anche con questa attenzione a volte mi accorgo che fraintendere è molto facile purtroppo anche questo è un'altra miseria connessa alla nostra vita terrena il secondo brano che leggiamo oggi e poi direi che forse è il caso che ci fermiamo per non appesantire troppo è questo sempre di Gregorio dall'orazione sulla natività di Cristo a proposito della frase le leggi della natura sono abolite si deve riempire il mondo superno Cristo lo ordina non opponiamoci la dissoluzione delle leggi di natura ha prodotto veramente il riempimento del mondo superno per certo se non si fossero abolite il mondo sarebbe rimasto manchevole e non pieno ma quali sono queste leggi di natura che si risolvono sono il concepimento mediante la seminagione e la generazione mediante la corruzione io credo nessuna delle quali assolutamente caratterizzò la vera incarnazione di Dio il concepimento infatti fu veramente puro e intatto da seme e la generazione fu assolutamente pura e intatta da corruzione e per questo motivo la madre è vergine anche dopo il parto di colui che è stato generato rimasta ancora più esente da passione ad opera di colui che fu partorito cosa questa mirabile e che rifiuta ogni legge e ragione ed è Dio colui che vuole essere generato da lei nella carne e mediante la generazione ancora più strinse intorno a lei che la sua madre i legami della verginità e la cosa veramente straordinaria a compersi ad udirsi è che ci sia stata la generazione ed uscita di un bambino nonostante che i cancelli genitali della madre non siano stati aperti ora anche in questo caso quando parla delle leggi di natura che si sono dissolte in occasione del concepimento della nascita di Cristo fa riferimento non alle leggi di natura integra ma alle leggi della natura decaduta a causa del peccato quali sono queste leggi che adesso sono leggi sono il concepimento mediante la seminazione e la generazione mediante la corruzione cioè il concepimento da seme e il parto doloroso come dire mi vorrebbe da dire violento insomma no io non sono non sono una donna che comunque non l'avrei comunque partorito ma mia mamma mi raccontava sempre insomma che quando il parto era uno dei dolori più grandi che possano esistere dice mi raccontava sempre ti senti morire ma proprio morire morire è solo che dopo quando ti trovi quel bambino in braccio come dice Gesù nel Vangelo ti dimentichi tutto quello che hai sofferto insomma ma se provi a ricordartelo il ricordo è molto forte e molto vivo ora mettendo insieme quello che San Massimo dice ne viene fuori il suo pensiero e cioè che il concepimento mediante il sé maschile è impuro e quindi fa sì che ogni essere umano così concepito contragga una impurità e questo è evidente cioè Gesù è nato senza peccato originale non perché attenzione come per la Madonna Dio ha dovuto fare un miracolo perché per la Madonna Dio ha dovuto fare un miracolo perché la Madonna è nata attraverso questo principio la Madonna è nata attraverso generazione carnale non è stata concepita per opera dello Spirito Santo ma il concepimento di Gesù l'abbiamo già visto in altre circostanze il concepimento di Gesù non è avvenuto attraverso seme umano ma per opera dello Spirito Santo quindi non essendo stato concepito da seme maschile ed essendo passato attraverso una una fonte qual era la Madonna incontaminata ecco che completamente esente da ogni macchia di peccato il figlio incarnato e la seconda cosa la generazione mediante la corruzione è evidente che fa riferimento l'eccezione che è stata compiuta per la Madonna è il parto virginale e attenzione che qui parla proprio cioè San Massimo è abbastanza esplicito nonostante i cancelli genitali della madre non siano aperti quindi cioè c'è stata una deroga alla corruzione scusate la generazione per corruzione pur come dire essendo coinvolto in qualche modo il cancello genitale lo dice lui quindi il modo di nascere nel parto nei dolori del parto e questo lo sappiamo per certo perché è una delle cose che Dio come dire con Minadeva come conseguenza del peccato d'origine quindi partorirei figli con dolore quindi se partorirei figli con dolore vuol dire che senza il peccato originale il dolore del parto non ci sarebbe stato la Madonna non era stata colpita dal peccato originale e quindi non poteva soffrire soffrire durante il parto semplicissimo innumerevoli volte ho detto diffidate di quei film su Gesù dove si vede il parto della Madonna con la Madonna che grida partorendo Gesù perché la Madonna non ha fatto nessun grido partorendo Gesù assolutamente quindi riepilogando e così mettendo anche fine a questa puntata per darci appuntamento alla prossima anche per San Massimo con veralti autori cristiani e padre della Chiesa il concepimento mediante l'unione carnale e la conseguente nascita attraverso i dolori del parto come li conosciamo sono modalità di generazione che appartengono alla condizione di vita cosiddetta post-lapsaria cioè dopo il peccato e che quindi sono causate da il peccato originale e che si propagano per il peccato originale quindi non è affatto azzardato ma è più che possibile anzi probabile anzi più che probabile a mio avviso ritenere che per San Massimo esse non facessero parte del progetto originario di Dio quindi né la generazione attraverso il seme e né la generazione attraverso il parto doloroso proseguiremo la prossima volta perché San Massimo ancora un discreto cammino da farci compiere e però ce lo diluiamo un pochino perché altrimenti diventerebbe troppo pesante appuntamento quindi amici alla prossima puntata che Dio sempre vi benedica e che la Madonna sempre vi protegga con un o o o o o o